Fai qui! finalisti dei 200 stile libero junior maschi Mattia Zuin miglior tempo uno cinquantaquattro e trentotto con lui in finale in the final Zan Pogacar Matteo Stecca Alfieri Gregoratti Samuele Potter Simone Toniolo Paolo Versolini Matteo Benedetti che conquista l'ottavo tempo utile alla finale uno cinquanta nove zero tre tanto ricordiamo agli atleti nel momento della partenza della gara successiva li prestare massima attenzione a rimanere nella propria corsia a spostarsi lateralmente sulla corsia e a non disturbare la partenza successiva quindi la concentrazione degli atleti della gara seguente grazie e la seconda batteria femminile senior Beatrice Andreini in uno Sara Trevisanni in due Claudia Morandin Veneto Banca Monte Belluna in tre Veronica Lucchese in otto di nuoto in quattro in cinque Vanessa Andretta in otto di nuoto in sei le in six spela persa e Radovliza in corsia sette Giulia Nardi Pisauro E' da tutti i'ai a la quattro in un'unice e' di nuoto in un'unice e' di nuoto in un'unice Il nostro peccato è in un'unice Siamo all'arrivo con Gaia Natalachen, dunque per lei la vittoria di batteria, la vittoria di questo hit è il tempo, 205.07, poi Gambarin e Luisetto nell'ordine.